Emettevano fatture per operazioni inesistenti finalizzate ad una indebita compensazione dell'IVA, ma sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Popoli, che ha dato così esecuzione ad un'ordinanza di sequestro preventivo per equivalente per oltre 3 milioni di euro. A farne le spese è stata una società operante nel settore delle costruzioni di lì, con sede nella provincia di Pescara ed operante in ambito nazionale. Complessivamente sono 5 le persone a vario titolo coinvolte nella vicenda, quali responsabili delle nuove realtà aziendali oggetto di indagine e per le quali l'autorità giudiziaria ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi. La misura restrittiva è stata emessa a completamento delle indagini della procura di Pescara, per le quali era stata già disposta la nomina di un amministratore giudiziario per gestire una parte delle quote societarie oggetto del sequestro cautelativo. Sono state 8 le ulteriori società individuate in ambito nazionale che a fronte di sedi legali di fatto irreperibili e di documentazione inesistente hanno nel tempo generato ingenti costi apparentemente giustificati dalla realizzazione di cantieri stradali, che in taluni casi sono risultati essere anch'essi totalmente inesistenti. Ad oggi sono state accertate compensazioni di crediti IVA inesistenti per oltre 800 mila euro ed emissioni ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 6 milioni di euro.